Ciao amici, sono Sandro Giacobbe, vi aspetto il 20 luglio a Rimini allo Stadio Neri per la partita del cuore per la domagna. La Nazionale Cantanti, da me guidata, sarà di nuovo presente e sarà in campo contro il Golden Team. La partita sarà trasmessa su Italia 1 alle ore 21, ma si può acquistare il biglietto per essere presenti su Viva Ticket, oppure fin da adesso c'è un numero solidale, il 45597 per donare. Quindi donate quanto più potete e aiutiamo gli amici della Romagna. Un abbraccio grande, ciao!